Per chi non ci conosce, noi siamo vietesi, veniamo dalla frazione di Motto Santa Maria che adesso ha cambiato nome e si chiama Valdilana. Il fatto che si chiami Valdilana già vi dice che noi veniamo da Tessi dell'Anievo, non c'è nessuno. Nel 1886 si fonda la Bracassella, c'erano troppi maschi in famiglia che sognavano che non facessero qualcosa d'altro e quindi da 138 anni siamo sempre più diventati, diciamo, i termini dei banchieri. In inglese mi rendono Real Banker. Quando Napoleone nel 1815 se ne va e in sella cosa fanno? Chiedono al re, che è a Torino, nel 1817 le patenti per poter far tirare le macchine Tessi. e in realtà, quindi per fortuna che c'era Torino. L'onore che ci fate a essere qua, a testimoniare il rispetto per un'iniziativa per il territorio e quindi qui sono estremamente grato. Ed è lì che si scopre Internet. L'ottobre 1984 è il primo browser e quindi è qui che quella contaminazione di cui tra un attimo parlerò fa nascere la vocazione dell'innovazione del gruppo SET. Io quello che vi voglio trasmettere è la diversità rispetto all'esperienza precedente.